Oggi Milan Sassuolo, eh? Ragazzi, dopo due vittorie, io sento veramente l'inculata dietro l'angolo, cioè, tipo, mi sussurra la notte Sto venendo a prenderti Una cosa del genere, ragazzi, quindi, tipo, c'è una paura, una caga assurda Sassuolo in maglia blu, barra verde C'è il leao davanti, cazzo Non c'è neanche Teo Hernandez Allora, il Sassuolo con consigli Chiracopulos, Ferrari, Marlon, Muldur, Orbiang, Locatelli, Bogadio, Ricicci, Berardi E De Frel, in sostanza, non gliene manca manco uno È delle partite che chiedono Mandzukic, Mandzukic, Mandzukic E non me lo mettono mai Vabbè, dai, partiti Speriamo bene, ragazzi, ma... Boh Mi puzza A me ne ho trovato Calabria, ragazzi Che vi devo dire Cosa cazzo fai, Gigio? Vabbè, c'è Dalot Si parte col piglio giusto Dalot, con Berardi La scarica, rimessa laterale, così Rimessa laterale gratuita per il Sassuolo Vai Sì, Eubiang, questo è fallo Cioè, sì, obiettivo, questo è fallo Ciala, sinistro è battuto da Ferrari Messa laterale È una bella azione, una bella azione, ragazzi Che tra l'altro Gigi esordì con il Sassuolo, proprio, mi ricordo Ottobre 2015 Si vinse 2-1, mi pare Cialanoglu sinistro, debolissimo Però almeno, cioè, ci stiamo provando Ci stiamo provando Ci stiamo provando, ragazzi Moodur che gioca Con l'uomo invisibile Fa un lancio verso la terra di nessuno Finché la palla sta Prima di che sì Che sì compreso Vedere l'errore è difficile Prima è che quando la palla supera La linea di che sì Cioè, va ai 3 davanti Ai 4 davanti Nessuno ci capisce più un cazzo Cioè, sembra la prima volta che Giocano a calcio insieme Ma perché Tomori gioca davanti? Vogà, 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 attenzione Scarica al destro Tomori, un muro Muro, muro De Zerbi dopo le dichiarazioni Di quando era ieri Veramente Merita Di perdere la 5-0 questa partita Cioè, veramente In risposta a quello che ha detto Cioè, nessuno ti obbliga A giocare le partite Nessuno ti obbliga a fare l'allenatore Quindi, cioè, che cazzo vuoi Ed è Zerbi Salma Kertz No! Era una palla bellissima per Rebic In scivolata Ferrari No, no Ha fatto un intervento Ferrari Veramente ottimo Cioè, complimenti a lui Mandava Rebic In uno contro uno Contro consigli Vedo che il Milan Per ora sta facendo meglio Non dico meritarsi il vantaggio Però Sta facendo vedere delle ottime Delle ottime cose da lot Da lot Sinistro Cioè, destro A incrociare Semplice per consigli Gigiò! Cazzo fai! Leao, c'è Sermakers Centrale Ecco la palla Che si inserisciti Eh, potevi aspettare Che si si inserisse No? Invece gli è data Di fretta e furia Adesso c'è il contropiede Chiracopulos Chirbuono No, no Bogà No! Bogà! Bogà! Dona Numa! Cosa ha preso? 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 Meno male! Vedo i Condor Vedo i Condor, ragazzi Però io dico sempre che Se Tomori Riuscisse a essere Tattico Quanto è fisico Sarebbe un difensore Da paura Anzi Giallo è Pensate così Chi er? Chi oggi? Dai Ok Ok Bannatemi per favore Calabria Che si C'è da lot Aspetta che si inserisca da lot Cozzo Berardi Tirangolazione Gioricic La vedo male La vedo male Berardi Tunnela Che si Fallo Fallo Si tiene la gola Bello No No E' stato troppo ottimista Pensava ci fosse l'uomo dietro Invece non c'era Lì Una girata delle sue ragazzi Come dice Caparezza L'avrebbe messo in culo a tutti quanti Leao Leao Aggancia Consigli Okira Copulos Chi è stato Sontuosa occasione E questa volta Non posso dire neanche niente a Leao Perché ha fatto veramente una cosa egregissima Per la mezza mischia Obiang Leao cerca di fare un fallo tattico Non ci riesce Perché Obiang è tipo 89 kg di fisico Un più Donnarumma Bravissimo Se le makers Ciala Può tirare Invece va il cross Bene bene il cross Un po' lungo però Però comunque È fatto bene C'è Ibra di Sprat In panchina Ma va Ok ma ok Buona Ciala Ciala Ma che gol Ma che gol Ma che gol del turco Ma che gol del turco ma che gode il turco, ma che gode il turco, ma che gode il turco, e andiamo, e andiamo, palla a Cianaglu che aggancia, drippo difensore, tiro a giro, meraviglioso, meraviglioso signori, mamma mia che gol, consigli i guardi del zerbi zitto, e andiamo, e andiamo, e uno, a Cian, avete vedere che ragazzo che c'ha Salemakers, che è contro il ragazzo, che c'ha, c'ha l'anogulo, ha messo Salemakers in panchina, ci scommetto quello che volete, vi posto lo screen nel video, nel recap, e lo sapevo, c'ha la, che sì, le hao, eh sì, ma come fai da fermo, da fermo, al limite dell'era a calciare un pallone nel terzo anello, ma i te, non sbogliono il goncio, ma i te, ho capito che devi fischiare, metti troppo su per il culo, così magari se scureggi vediamo se fischi anche da lì, come recuperiamo, palla, fallo, direi di inceperarti, Dalot, Dalot in scivolata, oh donna Rum, ma chi è stato, secondo me Dalot in scivolata, ha salvato un gol, c'è proprio, l'ha segnato Dalot il gol, vediamo, sì Dalot in scivolata, ragazzi, intervento da dieci, l'ode di Dalot questo, e devo essere sincero che ora sta facendo una partita discreta, così a maggior ragione, fischi dall'altro anche cinque secondi prima, a posto, ci vediamo, come sempre, nel secondo tempo, Ha colpè, ha colpito Bogà, dove fa più male, nei cosiddetti COGLIONI, Ciala, ciala, Leao buono, Rebic, troppo debole sta pala di Leao, in profondità, filtrante, cazzo, e è delle notti che mi sogna un centrocampo della nazionale Locatelli-Barella, e Verratti, C'è veramente, sono lì che ci penso, De Vrel centrale, dalla Roma, Io più lo guardo Locatelli, più mi chiedo, come abbiamo fatto a mandarlo via, ragazzi, C'è uno a glu destro, consigli, Trampone fa un altro, Rebic, mette dentro verso Leao, scivolata di Ferrari, se devo essere onesto, e non voglio veramente tirare una gufata, sicuramente il Milan merita più il secondo di quanto il Sassuolo merita il Parigio, Tre cammi nel Sassuolo, Entra Raspadori, ed esce De Vrel, Berardi, Attenzione, oddio, Trovo le fuori di così, Favorito è Leao dalla spinta di Ferrari, Leao, 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 ma dentro per sé le Makers, ma Leao, ma incrocia, ma tira, ma metti un diagonale, no, cerca il gol della merda, Hai la possibilità di concludere, non c'è nessuno che ti rompe i coglioni, e cosa fa? Mette la palla in mezzo quando in mezzo ci sono due giocatori del Milan marcati da tre giocatori del Sassuolo, cioè, bravo, mette in scivolata, una cosa giusta fatta da sto qua, me lo togli Leao? Mi sta veramente dando i nervi, fuori c'è un Ogulerebic, dentro Clunic e Mandzukic, questo cambio me lo dovete spiegare, però, eh, raga, questo cambio me lo dovete spiegare, cioè, togli Mette e togli Leao, cioè, Leao sta veramente facendo vomitare, No, 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 conto per il Sassuolo, attenzione, scarica, qua scaricherà per Berardi, destro, fuori per fortuna di The Frel, no, che buco, togli an sinistro, goda il Sassuolo, goda il Sassuolo, vai, Aspadoni, vai, bene, 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 bene così, bene così, bene così, abbiamo un'ampiezza che è così, abbiamo un'ampiezza di un metro quadrato, ed è bene così, ed è bene così, bene così, bene così, come sempre, non gestiamo mai il vantaggio, Sassuolo che non ha fatto una sega tutta la partita, ade qua, Dalot che fa da centrale, Tomori che esce a scampagnare, la mette nel mezzo, la palla passa in mezzo, a tre di scivolata, la Spadori a un metro, batte Donnarummo ovviamente, settantasettesimo, non c'era peggior minuto per prendere gol, cioè, hanno detto ora che il Sassuolo ha avuto quattro occasioni in tutta la partita, quattro ne ha avute, e questa partita io ce l'ho con Leao, perché ha avuto 500 palle da sfruttare, non ne ha sfruttata una, Dalot lunga verso Leao, potevi lasciarla a Mandzukic, era lì dietro di te, no, Leao la prende di capoccia, la manda rimesso in laterale, lo vendete quella merda umana, per favore, cioè che Maldini è così fa, che cazzo fa, e se non ce l'hanno messa nel culo all'andata, ce la mettono a ritorno, attenzione, oh, oh, gol di Sassuolo, gol di Sassuolo, la Spadori, vai, ragazzi, il campionato è finito qui, la qualità nel calcio fa la differenza, e se hai Leao in squadra, l'hai sonoramente nel culo, guacchiere perde una palla veramente, da, da ammazzarlo, Berardi cerca l'assi, se la Spadori fa un tocco, manda al baretto Tomori, che pensava che andasse dall'altra parte, tiro di merda, palo gol, Donnarumma irresponsabile, ragazzi, non ho parole, la palla al Sassuolo, che tra po' fa il 3-1, madonna, se dov'è stata la differenza nei cambi, che tu Leao dovevi toglierlo all'intervallo, all'intervallo dovevi togliere Leao, Leao poteva averne fatti fare 4 di gol, è quello il problema, dai, vogliamo il terzo, Araslin, dentro, Kriakopoulos, sinistro, fuori di così, abbiamo preso Toppitta, da Raspadori, da Raspadori, cioè, non so se è chiara la cosa, non hanno fatto un cazzo fino al pareggio, giusti qua, dentro Caluno e Brahim Diaz, mamma mia, è Castiglieco, cioè, tu vuoi cercare di paraggiare una partita, e metti Castiglieco, ci rendiamo conto, squadra di merda, dovete vergognarvi, era una partita che potevi, giocare, e gestire, tranquillamente, abbiamo preso 2 gol in 5 minuti, si incarta, si incarta, Brahim Diaz, si incarta, capito, madonna, ma che gol di merda abbiamo preso, devo dire recupero, perché non si è neanche perso tempo, quindi, c'è, Brahim Diaz, questo è fallo, questo è fallo, questo è fallo, abbiamo, un'occasione oggi, clamorosa, giocano Napoli, Lazio, e Roma, Atalanta, io mi chiedo perché Pioli metta sempre le AO, vai, fine, la partita può anche finire qui, tanto ragazzi, fallo al centrocampo, si perderanno tipo altri 4 minuti, Maldini si ne va, e me ne vado anche io, grazie a tutti,